Oh, chi la dura la vince, buonasera, buonanotte, notte, 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 non è tardissimo, mi si stoppa in continuazione, io faccio pulizia e questo fa i fatti suoi, quindi aiuto, ci eravamo salutati poco fa, io ho già realizzato il secondo intervento Chevron, la diminuzione doppia, che sarebbe quadrupla. Perché è quadrupla? Perché per mantenere le nostre dimensioni noi dovremo aumentare negli spigoli e diminuire al centro di ogni blocco, lo stesso numero di maglie che aggiungiamo lateralmente lo dobbiamo eliminare al centro, come abbiamo fatto? Accusi abbiamo fatto le due maglie di aumento nello spigolo, dopo l'archetto di due catenelle e poi proseguiamo, replicando lo stesso numero di maglie che ci troviamo sottostante a queste, quindi lo stesso numero di maglie alte, ci dovremo fermare quattro maglie prima rispetto al centro delimitato da questo marca punto, quindi questa è la maglia che non lavoreremo, queste due sono quelle che lavoreremo insieme e quindi è già una diminuzione. Allora, una maglia alta interrotta, una maglia alta interrotta, due maglie alte chiuse assieme, salto una maglia di base, salto quella al di là del marca punto, che mi delimita la metà di questo primo gruppo, in questa riga e quelle successive. Quindi, salto questa, salto questa, lavoro insieme questa, la prima del secondo gruppo praticamente, di questa seconda parte di riga, ecco qua, quindi abbiamo eliminato quattro maglie, una qui, una qui perché l'abbiamo lavorata insieme e due alla base. Proseguiamo, terminiamo la riga fino allo spigolo, tutto come sempre, come quando abbiamo creato la nostra base. Vediamo se riesco a terminare tutte queste righe prima che si ristoppi, ecco qua, creo il mio aumento nello spigolo, le due catenelle dello spigolo e comincio la riga di questo altro gruppo, quindi realizzo il doppio aumento, ecco, quello che mi aumenta questa riga apparentemente, quindi eccomi qua. Adesso noi dobbiamo salire, dobbiamo creare, non sarà un cilindro perché la base è quadrata, però ecco, ci siamo capiti, no? La nostra sacchetta cresce verso l'alto, con questo motivo che vron, poi ci sarà altro, non sarà così fino alla fine, ci saranno altri interventi. Quindi, questa è la metà, questa è la maglia che non devo lavorare, lavorerò insieme queste due maglie, quindi la terz'ultima con la penultima di questa prima metà di riga. Salto l'ultima di questa prima metà di riga, salto la prima di questa seconda metà di riga e lavorerò assieme. Maglia alta parziale, maglia alta parziale e le chiudiamo assieme. Ecco qua che si chiude, che si accartoccia, che si crea il nostro motivo che vron. Termino la riga, termino la riga, trallallà, trallallà, meno male, sono qua. Alte, 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 alte. Sono un po' nervosa, perché sto continuo stoppamento. Ok, sono arrivata in fondo, ma devo creare ancora le ultime due maglie dell'aumento. E poi cosa realizzo? Ecco qua, queste abbiamo le prime tre catenelle. Scusatemi, era fuori fuoco e ditemelo le cose, no? Se no, se non mi correggete, io sbaglio. Allora, ecco qua, vediamo se si mette a fuoco sto rospo, ci manca pure lui. Eh, è un po' ostile stasera, eh? Guardate un po'. Guardate che lavoraccio, non mette a fuoco, ma perché mai? È proprio una cattiva cosa questa qua, eh? Voi la capite? Tecnicamente, che senso ha? Vabbè. Allora. Infilo questa catenella nella più alta. Eh, ma è terribile così, eh? E creo il ponte. Ecco qua. Una mezza maglia bassa. È terribile il fuoco, lo so, ma non so cosa farci. Vedete che fa? Lo fa e ci prova. Invece di mettere a fuoco, fa casino. Guardate, guardate. Guardate, non mette a fuoco. Mette a fuoco e poi va fuori fuoco. Ma come si rimedia a sto casotto? Guardate che ostile. Vabbè, avete capito, vero? È pazzo. Il mio cellulare è pazzo. Va bene. Vabbè, è un po' sgranato, ma facciamocene una ragione. Se no, non ne veniamo a capo qua, eh? Si è impazzito il mio cellulare. Abbiamo chiuso, concluso. Il primo giro dove abbiamo... È terribile questa cosa. Il nostro intervento Chevron. Vedete che inizia a prendere l'aspetto di un contenitore perché si rialzano i margini. Sarà perché è sera? Ecco, adesso, vedete? Io non faccio niente, eh? Da che cosa dipenderà? Se qualcuno lo sa, me lo dica poi, eh? Nei commenti. Non mettete link nei commenti, vi prego. Perché vi censura, YouTube. Non accetta link. Allora, anche se lo so che mi volete bene e mi vorreste dare dei consigli, far vedere cose che mi piacciono, devo realizzare di nuovo la mezza maglia alta. Perché mi serve, ecco. Ok? Se si stoppa pazienza. Adesso provo a ripetere quello che ho appena fatto. Comunque ricordatevi che potete rallentare la visione del video e stoppare, ecco, quando avete bisogno di prendere appunti. Allora, adesso proviamo a fare un'altra riga? Se ce la dà, buona. Ecco qua. Ok. Niente? Proprio zero. Allora, ecco qua che ho realizzato i due aumenti nella diagonale. Lo so che è terribile, lo so. Portate pazienza. È una sfida tra me e il cellulare. Ecco qua. Adesso io arrivo al centro del primo gruppo. Vedete? Del primo triangolo. Ho sempre la base come riferimento. Ho sempre questo marcapunto. Poi spostatevelo se avete timore di non vedere, di non riconoscere il centro. Lo vogliamo fare? Ne volete un'altra? Ne volete un'altra? E mi si impiccia a sto coso? Allora, segniamo il centro. Lo segniamo qua, così sono sicura di perderlo. Eccolo. Questo è il centro. Come si fa? Perdete il marcapunto. Oddio, ho perso il marcapunto. Dove sono? Dove sarò? Ecco, guardate cosa succede sotto. Queste sono le due maglie lavorate assieme. Io vorrei farvelo vedere. Vorrei tanto. Ma lui non lo fa. È un perfido. È un perfidissimo. Lo metto di traverso? Lo vede meglio? No. E che è? Vabbè. E vedete che anche queste due sono chiuse assieme. Ecco, guardate un po'. C'è un motivo? Io non lo so. Ecco, queste due sono state chiuse assieme. Queste due sono state chiuse assieme. Questo è il centro. Quindi, quando parte un marcapunto, se ne va per i fatti propri, non spaventatevi. C'è sempre una soluzione. Ecco qua. Noi dobbiamo raggiungere il centro realizzando tutto il nostro trenino di maglie alte. E che caspita! Perché poi voglio tornare a fare il top della Camilla. Per questo mi vorrei spicciare. Però già che regge. Se regge. Oh! Aspettate. Allora, uno, due e tre. Perfetto. Sapete cosa potete fare? Contare quante maglie avete da fare prima ad arrivare alla terz'ultima. Così non dovete stopparvi o controllare di continuare. Poi ho poche maglie. Non ci ho pensato a farlo nemmeno io prima. Allora, questa è la terz'ultima della prima metà. Questa è la penultima della prima metà e le chiudo assieme. Salto l'ultima di questa metà. Oltrepasso il marcapunto che sta per scappare via. Salto questa maglia di base e via. Lavoro questa e lavoro quella dopo. Eccole qua. E le chiudo assieme. Zan zan. In mezzo noi dobbiamo avere due maglie. Perfetto. Ci sono. Mi piacerebbe vederle a fuoco. Anche a me. Ah, quindi devo andare verso il basso perché si veda. Non è detto. Perché fa i fatti suoi. Guardate che lavoraccio che fa. Ma che gli prende? Vi faccio paura. Anch'io mi faccio paura. Vabbè. Comunque è teoria. Quindi va bene. Adesso sapete cosa faccio? Arrivo allo spigolo e mollo lì e vi faccio vedere gli appunti perché sennò qui non ne veniamo a capo. Siamo già a dieci minuti. Allora eccomi qua a fondo riga. A fondo riga faccio i miei aumenti dello spigolo in modo che la mia sacchetta cresca sempre con questo motivo di spigolo separato. due catenelle ecco qua va bene dai finisco là al centro ecco qua io mi devo fermare perché devo cambiare non devo fare mali alte devo fare due mali alte chiuse assieme eccolo qua allora eccomi qua vedete questa è quella che non dovrò lavorare loro due invece sono quelle che io dovrò lavorare assieme eccomi qua salto faccio un saltino altro saltino eccomi qua quindi la nostra sacchetta avrà quante scanalature laterali vedete come cresce allargo un po' i miei punti eccomi qua a un certo punto noi avevamo solo 4 diagonali queste diagonali forate mi piacerebbe farvele vedere ma non mette a fuoco non mette a fuoco ok sono 4 è un quadrato con delle diagonali forate come iniziamo a realizzare lo chevron avremo poi delle colonne forate perché loro si muovono anche loro saranno delle colonne forate ah 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 il cucciolo resta dall'altra parte quindi avremo questi fori qua che si vedranno un po' meno perché questa chiusura a piramide a triangolo ecco si nota meno rispetto a questa apertura questa rimane un po' più evidente quella delle famose diagonali di inizio ecco questa che inizia ora ecco si vedrà in maniera diversa le ultime parole famose delle papagne bucose che guai ma chi ve li fa i tutorial così nessuno ve li fa e sono tutti spontanei ne fareste a meno eh 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 anch'io a volte chissà cosa mi è preso sto periodo così è perché mi mancano le mie allieve mi mancano le mie allieve le mie riunioni le mie chiacchiere i miei libri le mie letture tutte quelle cose il mondo mi manca il mondo che poi sono una solitaria non sembra mai così allora andiamo un po' al quaderno vedete adesso si spegne tutto a puntino di fine chiacchiera eh sì lo faccio apposta che lo metto solo alla fine non metto hashtag hashtag bactus non abbiate paura allora vi ricordate questo è l'inizio questo è l'inizio ve lo ricordate allora eccolo qua cominciamo con tre catenelle la prima che ho fatto diventa quello che per molti è l'anello magico che io non faccio lascio dilattare lei lascio la codina molto lunga e ti saluto marianna sta facendo menate scusatemi ormai è l'orario le prime tre catenelle sono la mia prima maglia alta realizzo tre maglie alte nell'anellino l'anellino lo ricordo la prima catenella che ho fatto non faccio anelli magici ma se a voi piacciono fateli due catenelle un altro gruppo di maglie alte due catenelle un altro gruppo di maglie alte due catenelle gruppo di alte la maglia la mezza maglia alta di chiusura che ho chiamato ponte 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 p p p p p p p eccolo lì va bene poi che ho fatto poi ho fatto altro ecco qua poi abbiamo fatto il secondo giro e quindi qua cominciamo con gli aumenti quindi dal ponte io realizzo subito lo chiamo ponte perché la mia maglia di avvio si trova al centro se io avessi chiuso con due catenelle mi sarei trovata sopra la maglia alta e non mi garba perché mi troverei sempre questa parte spostata e anticipata dagli aumenti non è cosa bella allora invece con questo stratagemma io rilzerò l'inizio giro sempre dentro questa diagonale forata forense stavo per dire con tutti i video che mi vado a vedere di aggiornamenti di guardo questo casino umano di casino umano che casino magari non me lo censura youtube questo casino umano altro che terza guerra dell'indipendenza abbiamo perso il senno anche i seni a un certo punto cadere un po' le ginocchia peggio del latte allora il ponte torniamo qua vai che è meglio non pensiamo alle bruttue il ponte realizzando la mezza maglia bassa di chiusura giro io mi trovo al centro di questo archetto e io da lì comincio a realizzare i miei due aumenti quindi le tre catenelle che mi sollevano il morale la seconda maglia alta d'aumento e poi concludo vedete queste sono le tre catenelle questa è la seconda d'aumento vedete che è spostata rispetto alla base la vedete la vedete meglio ok poi ho tutte le maglie alte che si sovrappongono a quelle sottostanti quindi questa maglia alta va sopra le tre catenelle di base giù quelle che mi sollevarono il morale le altre tre idem e poi realizzo nell'archetto sottostante le prime due maglie alte di aumento cioè le ultime di questa riga realizzo le due catenelle della diagonale ecco qui le prime due maglie di aumento di questa riga sovrappongo le alte quelle sottostanti altre due alte nell'archetto archetto nuovo altre due alte alte nel medesimo archetto concludo la riga aumenti sopra l'archetto due catenelle due alte nel medesimo archetto concludo la riga con i due aumenti e i due aumenti e il ponte famoso ponte ponente ponte p fino a crearmi la mia base allora cosa abbiamo fatto qua vediamo se ce lo permette allora vedete questi sono gli aumenti gli archetti laterali a un certo punto ho deciso che la mia base va ben così allora devo cominciare il motivo che è che è questo è il marca punto queste due sono le maglie alte che io non non lavorerò vedete ok mica tanto però metteteci un po' di buona volontà di carità umana allora questo segno rosso grosso è il marca punto che mi separa il gruppo io non so come ovviare a questo disastro ecco inclinandolo così ho visto un po' poteva dirmelo allora queste due sono le maglie che io non vado a lavorare allora ecco qua quindi questa è il marca punto terz'ultima penultima lavorate assieme salto loro si uniscono ovviamente no poi salto anche quella dopo il marca punto alta alta lavorata assieme e finisco la mia riga finisco la mia riga quindi queste si vanno a sovrapporre all'aumento queste due andranno nell'archetto sottostante due catenelle e così prosegue come mi avete sentito chiacchierare e visto male magari credo però su fate i bravi domani è un altro giorno vediamo cosa succede di giorno vediamo se riesca a capire perché non metta così a fuoco secondo il mio desiderio ho tutto alle luce ring niente guardate cosa fa sto befano allora ricordatevi io nella borsa che sto eseguendo ho realizzato queste righe di chevron sette ne ho sovrapposte poi comincia un'altra solfa eh sì mica andiamo avanti così e basta e no c'è un cambiamento e poi e poi ce ne sarà un altro e poi la rifinitura e poi le tracolline e poi se volete le nappine e poi basta e vi dico buonanotte o buongiorno buon pomeriggio e non fatevi stavolta niente mal di mare eh ci abbiamo il fuoco che niente ha detto che i canader non possono passare se io metto a fuoco mi fanno la doccia e allora bisogna accettarlo così com'è eh eh ce ne facciamo una ragione se chi non ha capito venga alla cattedra e glielo spiego che si non ha capito